l'italia dietro non si parla perché purtroppo fa parte di quelle guerre chiamate guerre dimenticate dimenticato apposta alcuni corrono subito purtroppo c'è la terza categoria che corrono soltanto quando ormai troppo tardi fatti da noi gli anziani dicono quando vedi un ragazzino bambino che vuole giocare col fuoco non solo giocare col fuoco quando si scorderà imparerà che scorta il fuoco il valore Bravissimi!